Fra tesi ha scelto il suo futuro, il centrocampista ha detto di sì, manca solo un ultimo passettino per concretizzare l'operazione, avete visto? Uno dei calciatori più apprezzati dell'intera Serie A, un calciatore eclettico, bravo ad attaccare gli spazi, con uno spiccato senso del gol. L'attuale centrocampista del Sassuolo ha voglia di cambiare aria, ha voglia di misurarsi con una realtà più grande di quella nero-verde. Tutte le più grandi big d'Italia sono su di lui, ma una in particolare sembra in vantaggio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter ha ottenuto il sì di fra tesi. Affinché l'operazione vada a buon fine, i nerazzurri devono soltanto effettuare una cessione. Difficile al momento però ipotizzare chi potrebbe partire, le pretendenti per Dumfries sono evaporate. Per Onana non c'è nulla di concreto. Correa non ha mercato, il nome che potrebbe far sbloccare tutto è quello di Marcello Brozovic. L'Inter eventualmente potrebbe ascoltare offerte per lui. La trattativa tra Inter e Sassuolo ormai è impostata. 35 milioni di euro il valore del cartellino di frattesi. Prestito neroso con obbligo di riscatto la formula. La contropartita tecnica inserita nell'affare potrebbe essere Samuele Mulattieri. La concorrenza è altissima, attendere troppo potrebbe risultare fatale. Come andrà a finire? Secondo voi dove giocherà? Frattesi l'anno prossimo?